Bentornati amici di Obiettivo Nusa ad una nuova puntata di due quattro ruote e passioni motori Oggi è una puntata sempre dedicata al mondo al mondo dei motori in questo caso delle quattro ruote ma è una puntata voglio definirla speciale perché è una ospite nostra ospite Liliana Armand ciao ciao benvenuta ciao a tutti è stata una delle prime navigatrici donne fino a che poi nel 2021 una bella trambata come si dice e mi hanno diagnosticato in tutto il tumore al sede Obiettivo più forte di te più forte di te inteso come più forte di te malattia e più forte di te inteso come più forte di te stesso Musica 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 Musica